Amici, attenzione però, ci sono grossi problemi in Italia ma ci sono anche grandi aspettative. Voi sapete che stiamo tutti aspettando il nuovo Papa, sono arrivati i cardinali, parabonsi, bonzi, boh! Sono arrivati i cardinali, parabonsi, bonzi, boh! E evidentemente c'è una grande attesa ma soprattutto c'è una piccola polemica con i cardinali americani. Ah sì? Perché questi cardinali americani sono arrivati... Ma sì, sono arrivati tutti compatti. Tutti compatti. Poi si sono presentati con un station wagon... Cioè è stato uno sbarco dei Marines, diciamo la verità, più o meno. Certo. Allora è un'emergenza cardinali americani e andiamo a collegarci col Campidoglio perché quando c'è un'emergenza il sindaco Alemanno è sempre pronto. Sindaco! Sindaco! No, mi c'è un pesserie! Ecco. Voi state creando l'allarmismo che a 35 centimede l'allarmismo diventa cannellone, a ventuno diventa orologio a 35 e sveglia. Sì. I cardinali americani però sono sparsi. Sono sparsi. Roma come pecorino. Come pecorino? Come parmigiano. Bene. A grana grossa, sotto la capitale. I cardinali americani stanno distribuendo illegalmente caramelle, cioccolata uova in polvere. Ma gli americani lo fanno, quando arrivano lo fanno. Ma è la seconda guerra mondiale. Io sto chiedendo, mi prego fatemi parlare alla Roma di Puzzo de Cacio, alla Roma Caputmundi de Mazio de Carte, de Mezzo Rottio, la Roma in marce scibe di coito interrottio. No, 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 no. Vi prego di tacere. Di tacere. Il nemico di Ascoltia. Sì. L'americano ti vuole comprare quei cappelloni, con hamburger e ti vuole rendere Pecos Bill. Sì. Pecos Bill, sappiamo tutti, a 35 centimesi si trasforma in razzo missile con i circuiti di mille valvole. Di mille valvole, sì. Dalle stelle. Sprint e va. E va. Allora, quando vedete i cardinali, chiudetemi le catacombe di Arsilia Petrella. Sì. E aspettate la fumata bianca. La fumata bianca arriverà. La fumata nera. Sì. La pakistana, se dovesse uscire un po' di fumata. No, no, no. Sindaco. È un affare di botanica. Questo è un affare di botanica. Sappiate che non vorrete accusare di consumo di droghe di cera, pozzone ciline, presentate a Gabriele, a coccise e a polverini. Sì. Se il cardinale, ripeto, se il cardinale tenta di convincerti che la Coca-Cola ha un hot dog, se tenta di dire il mio codice è 5, votatemi, tu rifiuta e digli ti riconosco mascherina. Se no, ti am esercito. Grazie al sindaco Levanto, Paolo. Grazie, grazie sindaco. Sono dei consigli utilissimi. No, 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 no. Peraltro, peraltro, siamo in attesa appunto di fumate bianche, fumate nere.